ciao ragazzi ciao a tutti e a tutti nuovo video che grigio come state spero bene allora questo mio grigio sul mio make up di oggi ovvero erano truccati anche gli occhi fino a poco fa ma poi ho dovuto struccare tutto perché devo mettere le gocce tra poco struccherò anche il viso quindi andrò a cena e poi mi dovrò mi dovrò struccare tutto appunto e mangiare niente come state voi spero bene oggi ho trascorso una bellissima giornata e niente quindi tra poco cercherò di fare altri video pelli come il make up che non è stati messi nobel poi non capisco perché ma vabbè dettagli e niente dunque 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 che fate voi di bello io nulla di che mi guardavo la tele nel frattempo stavo guardando se arrivano altre notifiche da youtube infatti si stanno guardando a pezzetti e voglia e nulla quindi ho intenzione di stare molto attiva su instagram e su tik tok comunque voi spero che stiate bene io sto altrettanto bene e niente che nel frattempo aspetta questo anello mio non sono non sono ne accompagnata né fidanzata niente questo era l'anello che un anello ti ricordo di mia madre prima del purtroppo non c'è più però mi voglio aver meno gioiello suo e niente questo è quanto quindi in pratica ho avuto una brutta esperienza che non mi sto qua raccontare però alla fine non lo so come andrà a finire spero bene però niente nulla ragazzi adesso mi mollo c'è nel senso che se questo video vi è piaciuto mettete un bel like un bel like e un commento e che dire a presto anzi anzi al giorno da mattina sei di scampare un video mattiniero non ho idea ma ci provo ok dire che capelli che ho oggi vabbè non ci voglio neanche pensare niente a presto ciao ciao ragazze a presto vi voglio bene e ricordatevi di fare quello che vi sto a star bene come dice la gatta luna kimono blu cosa sei vendemela? cosa sei dicendo? un video chiacchiericcio è questo attenta che chiacchierai no ho detto semplicemente ricordatevi di fare quello che vi sta a far star bene hai capito no? e niente e questo è comunque il mio outfit oh no dai su e questo è il mio outfit vedete questo è il mio outfit vabbè questo è una giacca bella comoda che vi ho già fatto vedere in altri video bella vero vi piace questo è un pantaleggings che ho bellissimo niente basta ragazze io vado e vabbè non è sempre che mi deve sempre dire cose che non mi piace ma vabbè fa parte anche quella della famiglia stupidaggini che a volte escono tra di noi sta attente ai video che dice fa come se fosse che io fossi chissà che cosa che non posso dire niente su mio carito mi bastiamo scherzando ragazzi no dai non diciamo stupidate e niente a parte questo ci si becca nel prossimo video ciao a presto un bacio ciao a presto un bacio